buongiorno a tutti benvenuti dal vostro andrea al matematico in questa nuova lezione di statistica in cui andremo a parlare della distribuzione normale vedremo qualche esercitazione per capire come funzionano le tavole ovviamente c'è già il video corso di teoria che vi dice praticamente quasi tutto quindi consideratela come una lezione integrativa e ripartiremo nel trattare questo argomento da un esercizio che abbiamo visto diciamo nella prima lezione su bias quindi se la probabilità che un individuo sia allergico ad un certo vaccino è di 0,001 determina la probabilità che su mille individui più di due siano allergici al vaccino abbiamo visto che questa tipicamente era una distribuzione binomiale con pi greco che era appunto la probabilità di allergia che era 0,001 ed n che era pari a mille la probabilità complementare era 0,999 e quindi per calcolare la probabilità che più di due individui fossero allergici al vaccino dovevamo praticamente calcolare adesso correggo un attimino qui quindi p di 3 più p di 4 più p di 5 eccetera 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 dove appunto p di 3 nella binomiale sarebbe stato mille combinato 3 per pi greco alla terza per uno meno pi greco alla mille meno 3 più poi ci sarebbe stata la 4 quindi mille combinato 4 per pi greco alla quarta per uno meno pi greco alla mille meno 4 più eccetera eccetera fino al mille quindi mille combinato mille per 0,001 alla mille per 0,999 alla 0 ora ovviamente potevamo quindi fare calcolare questa probabilità come appunto 1 meno p di 0 più p di 1 in questo caso ho modificato un po il testo più p di 2 però la procedura è quella che abbiamo già visto nella scorsa lezione dove appunto andremo a fare tutti i calcoli sulla binomiale noi abbiamo detto che per risolvere questo esercizio quando la numerosità è alta ma la probabilità è bassa potevamo tranquillamente utilizzare una Poisson e qui abbiamo visto i calcoli noi con l'x minore di 2 1 meno la probabilità che x era minore di 2 e quindi andavamo a fare 1 meno p di 1 appunto meno cioè scusate 1 meno p di 0 meno p di 1 e questi calcoli diciamo li abbiamo già effettuati ora la domanda è partendo da quel testo là se il testo mi chiedesse calcola la probabilità che si ammalino un numero di individui compreso fra 3 e 628 allora quindi se noi avessimo adottato il procedimento binomiale che quindi era tipico del caso binomiale avremmo quindi dovuto fare una sommatoria molto lunga cioè andare a fare p di 3 più p di 4 più p di 5 eccetera 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 fino a p di 628 ovviamente quindi per fare questo conto veramente molto lungo ci sarebbe stato quindi 1000 combinato 3 per la probabilità di successo alla terza per 1 meno la probabilità di successo ovvero 0,001 alla 1000 meno 3 cioè la 997 più poi ci sarebbe stato p di 4 cioè 1000 combinato 4 per pi greco alla quarta per 1 meno pi greco alla 1000 meno 4 eccetera eccetera fino ovviamente all'ultimo termine che sarebbe stato quindi 1000 combinato 628 per pi greco alla 628 per 1 meno pi greco alla 1000 meno 628 e così via ora dobbiamo ricordare che per il teorema del limite centrale quando ci troviamo di fronte a una binomiale con parametri quindi n e pi greco quando n diventa molto grande allora possiamo diciamo sostituire la binomiale con una normale quindi con una normale perché è come se le stecchette diventassero talmente piccole talmente dense da formare in sostanza una funzione di distribuzione di probabilità anche qui per vedere il discorso del teorema del limite centrale sia applicato alla Poisson che è la binomiale vi rimando la teoria però già qualcosina qui riusciremo a vedere quindi una normale che ha come valore medio n per pi greco quindi numerosità che diventa grande per pi greco che è la probabilità di successo e con varianza n per pi greco per 1 meno pi greco ora nel nostro caso specifico quindi la normale avrebbe quindi una media pari ad n per pi greco ovvero 1000 per 0,001 che appunto farebbe 1 ed n per pi greco per 1 meno pi greco farebbe quindi 1000 per 0,001 per 0,999 che sarebbe appunto 0,999 ora se noi vogliamo calcolare la probabilità che la x appunto sia compresa diciamo tra il 3 e il 628 il procedimento sarebbe quello appunto di calcolare diciamo lo z1 associato al 3 e lo z2 associato al 628 ora i calcoli del procedimento di z si farebbero praticamente se vogliamo fare a mano questi conti ovviamente useremo le tavole quindi dobbiamo standardizzare questi dati quindi logicamente in corrispondenza del 3 dobbiamo fare 3 meno il valore medio quindi 3 meno 1 fratto la radice quadrata della varianza della distribuzione ovvero lo scarto quadratico medio che sarebbe 0,999 quindi la radice di 0,999 praticamente sarebbe 1 praticamente quasi 0,999 quindi sarebbe 1 e quindi logicamente 3 meno 1 fratto 1 farebbe 2 628 meno 1 tutto fratto 1 fa 627 quindi calcolare in questo caso la probabilità che la x sia compresa fra 3 e 628 è la stessa è lo stesso calcolo di calcolare la probabilità che z sia compreso fra il 2 e il 627 ora ovviamente se noi utilizzeremo le tavole dovremo quindi fare l'integrale di 627 meno l'integrale di 2 quindi utilizzando delle tavole poi andremo a vederle un po meglio con area completamente a sinistra sostanzialmente dovremo andare sulle tavole delle z e quindi andiamo diciamo in queste tavole qui quindi le tavole con valori positivi chiaramente quando cerchiamo il 628 ovviamente l'area varrà assolutamente 1 perché ricordate che lo z esaurisce quasi tutti i valori tra almeno 4 e il più 4 quindi vedete che già qui in prossimità del 3 l'area a sinistra vale 0,990 quindi questo in corrispondenza di ogni valore di z gli z lo troviamo la prima parte sulla prima colonna e la seconda parte sulla riga ovviamente quindi in corrispondenza del valore di z ad esempio non so 0,33 0,3 la prima parte 33 la seconda quindi andate a leggere che l'area a sinistra dello z che è 0,33 ed è 0,6293 ovvero ci sarà il 62 per cento virgola 93 di trovare uno z minore adesso ovviamente se noi vogliamo fare l'integrale di 600 che cos'era 627 mi pare quindi meno l'integrale di 2 ovviamente l'integrale di 627 praticamente varrà 1 ovvero il 100 per cento meno invece l'integrale di 2 quindi andiamo sul 2,000 quindi troveremo 0,9772 e quindi alla fine dovremo fare 1 meno 0,97 c'è 0,0228 ok questo ovviamente non è ancora il campo di applicazione ottimale della normale perché i valori qui essendo che risentono molto di essere vicini alla media in effetti questo è molto distorto come risultato proviamo un attimino a vederlo su excel per vederlo un attimo meglio quindi se abbiamo quindi la nostra binomiale in sostanza quindi con n uguale a 1000 se ti interessa avere questo ed altri esercizi sulla statistica vai nel link in descrizione e all'interno dei videocorsi di statistica c'è la parte relativa all'eserciziario eserciziario in super promozione quindi veramente approfittatene perché non sarà in eterno un prezzo così basso solo i 9,99 euro avrete esercizi di ogni tipo quindi dalla statistica mono e bivariata alla regressione alla probabilità alla stima intervallare fino ad arrivare ai test di ipotesi ovviamente per una comprensione completa di tutto vi consiglio anche di prendere la statistica descrittiva con parte di esercizio di teoria la probabilità e l'inferenza e i test di ipotesi grazie ad andrea il matematico è tutto ci vediamo sempre qui sempre a parlare di statistica mi raccomando non perdetevi le prossime puntate